Buongiorno, ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV, venerdì 5 luglio. Andiamo a vedere insieme come titolano le principali pagine locali. Iniziamo dalla Gazzetta del Molise in apertura. Quale gruppo regionale ha speso 50.000 euro per il telefono e soprattutto per l'199. E poi io pago appunto, rievoca Totò. Ancora politica, Grammanze, la Confocommercio entra malamente sull'argomento e poi trasporti perché ancora non viene assegnata la gara, si chiede la Gazzetta. La Gazzetta politica e il ritorno di Forza Italia si riparte a fine luglio, Campobasso, il sito online del Comune funziona a intermittenza. L'Oscar del giorno, la Gazzetta lo attribuisce proprio all'editore di Molise TV, Federico Mandato, per il concorso regionale ai talent. Appunto, come sapete, è partito il tour estivo proprio ieri sera da Civita a Campomarano, un tour che toccherà quasi tutti i paesi del Molise. Per terminare poi il 7 settembre a Montenero di Bisaccio, un modo davvero diverso di far vivere l'estate ai giovani molisani e ai loro genitori. E soprattutto un'ottima occasione per scoprire i talenti della regione molise. Il tapiro del giorno invece va a Luigi Barbieri, il sindaco di San Giuliano di Puglia. Andiamo ora a vedere le prime pagine interne della Gazzetta. Quell'199 per 50.000 euro. Quale gruppo regionale ha pagato bollette telefoniche per linee bollenti? E poi ancora a Diavolo di un Petraroi a Roma per affrontare problemi della sanità. Ha saputo approfittare per far luce sulle difficoltà di giornali e tv regionali. E poi ancora pensa all'offshore e alle gran manze. Intanto l'economia muore. Forza Italia a Molise. Si riparte il prossimo 23 luglio. Michele Iorio ha lavoro per organizzare il lancio del nuovo progetto politico. Trasporti che fine ha fatto la gara mentre aumentano i disagi per i viaggiatori. La regione non assegna le linee. E poi il collega Massimo Dallatorre si chiede quanto è necessario in questo momento rilanciare il Molise. Bene, dalla Gazzetta ci spostiamo ora alla prima pagina di primo piano Molise. L'ultimatum della ex cattolica, il direttore Rastelli. Se la regione ci vuole arrestiamo, altrimenti ne prenderemo atto. I vertici del centro chiedono il rispetto degli impegni. Firma dell'accordo di solidarietà e attuazione del piano sanitario. Ancora sotto assedio Campobasso Termoli. Tratta ferroviaria da cancellare. Collegamento antieconomico secondo RFI che rilancia la soppressione. ma Fratture e Nanni promettono barricate a Palazzo Omoffa. La Cassa intanto è quella meglio pagata d'Italia. Assemblea di via 4 novembre. L'unica a non aver tagliato le indennità dei consiglieri ora rischia lo scioglimento per grave violazione di legge. Ancora l'imprecazione, il vilipendio alla nazione. La Cassazione condanna un 71enne di Montagano. E poi il Molise che si fa onore sulla Salerno. Reggio Calabria ha battuto il diaframma della Galleria di Piale. L'imponente opera realizzata da Impreglio condotte ad Europa. 92 Pozzilli Mario Pietracupa, nuovo presidente della Fondazione Neuromed. Le notizie di Sport Campobasso. Uno sponsor forte. Primo obiettivo del Comitato per il Lupo. E poi serie di Termoli. arriva De Tommaso e il club interessato al portiere Biasella. Andiamo a vedere anche qui le prime pagine interne di primo piano Molise. Ancora la ex cattolica futuro a rischio. La regione rispetti gli impegni. Rastelli, se ci vuole, restiamo. Altrimenti ne prenderemo atto. Manca la firma dell'ente per l'accordo di solidarietà. In ballo 45 suberi. Sul piano sanitario regionale e integrazione col Cardarelli. Ancora nessuna certezza. Pietracupa sale al vertice della Fondazione Neuromed. I suoi obiettivi sviluppo della ricerca e valorizzazione dei giovani. E poi ancora dal Parlamento ruta all'Assemblea di Coldiretti. Agricoltura Volano di sviluppo protezione civile. L'ex direttore dell'agenzia resta sospeso. Nuove contestazioni a Giarrusso che allungano lo stop da tutte le funzioni fino al prossimo 25 luglio. Percopo intanto fa ricorso al TAR. Siluramento illegittimo. Il Molise la cassa meglio pagata a tagliarsi lo stipendio. C'è tempo tra le regioni ordinarie. L'unica a non aver ridotto l'indennità e soldi ai gruppi. Il tempo è scalato al 2 luglio. A Palazzo Moffa minimizzano ma il DL174 però prevede la decurtazione dei fondi statali e perfino lo scioglimento del Consiglio. E poi stop al Campo Basso Termoli. Giunta frattura sulle barricate. Rete ferroviaria italiana pronta a sopprimere treni da ottobre. E Nanni attacca. Sarebbe l'isolamento totale. Via Libra invece alla metro. Leggera ammortizzatore in deroga. In arrivo 4,2 milioni presso un summit sull'editoria. Intanto ritorno a Forza Italia. L'epore sta con Berlusconi. Confrontiamoci su una proposta seria e credibile. Dice l'iniziativa risorse dell'Unione Europea Scarabeo l'integrazione. Parola d'ordine per una spesa efficace. Da primo piano Molise ci spostiamo ora alla testata online di Informa Molise del settimanale del Molise. De Gregori in concerto a Termoli. Il cartellone estivo sarà presentato la prossima settimana nella città Adriatica. E poi ancora ruta dall'agricoltura. Può arrivare un contributo fondamentale per la crescita e l'occupazione. E poi ancora liberiamo Campobasso la campagna del Movimento 5 Stelle. Scendiamo ancora più giù. Vertenza, Vigilanza Armata, Wilkus. Combatteremo per ogni singolo posto di lavoro. E poi in ultimo Fondo Politiche Sociali, Patto per la Salute e Sostegno all'editoria. Attivati i contatti con il Ministero Iorio. La Corte di Cassazione conferma la nostra impostazione sul riordino delle province. Bene, passiamo ora alla prima pagina dei fatti del nuovo Molise. Fondazione Cattolica, tempo scaduto così, titolano i fatti. Ancora crisi all'ATM. L'assessore Nanni fa chiarezza. L'azienda ha inviato una diffida alla Regione. La replica, siamo ancora nei tempi per pagare gestione rifiuti blizza con le torto dei carabinieri. E poi ancora salva la provincia di Sernia. Ma ancora per quando, si chiedono i fatti. Il Premier Letta sta preparando un disegno di legge costituzionale. Ancora le notizie del giorno. Fondazione Neuromed. Mario Pietracupa, Presidente, a lavoro puntando sui giovani e sviluppo. Ancora schiuma sulla costa. Pressing sulla provincia di Campobasso. Abruzzo, immigrazione irregolare, convegno a San Salvo. E poi le notizie di sport. Lupi parte l'operazione salvataggio. Andiamo a vedere anche qui le prime pagine interne dei fatti del nuovo Molise. Dedicate appunto alla questione dell'ex Cattolica. Il direttore, tempo quasi scaduto. Rastelli invoca chiarezza da parte della Regione sul futuro della Fondazione. A rischio 45 posti di lavoro personale pagato con ritardo intollerabile. Metropolitana leggera approvata la variante. Nani, il collegamento ferroviario in matrice Boiano passerà ogni mezz'ora. Barricate per l'eventuale soppressione della Campobasso Termoli. Ancora Niro incontra il colonnello. Finanza, il Presidente, il Consiglio profigo rapporto e collaborazione tra le istituzioni editoria Petraroia. Via contatti con il Governo, l'assessore a colloquio anche con il Ministro della Sanità. La questione della TM Nani dell'Italia dei Valori fa chiarezza all'assessore regionale Trasporti. Siamo nei tempi per i pagamenti di giugno. L'azienda è inviato alla Regione Molise, una diffida intanto per il mancato corrispettivo. L'epore sul ritorno di Forza Italia. Bisogna rendere preziosa la nostra esperienza. Carabinieri, attività di controllo sul territorio. Sette denunce tra Colletorto e Boiano. E poi, infine, liberare Campobasso l'incontro dei grillini. Bene, dai fatti ci spostiamo alla pagina del quotidiano Il Tempo dedicata al Molise. Senza soldi, 45 infermieri vanno a casa. Rastelli, la Regione dica se dobbiamo rimanere sul territorio. Grido di allarme del direttore della Fondazione Giovanni Paolo II. E poi da Termoli è arrivata la goletta verde a caccia di Pirati del Mare. Ancora Campobasso, Nani replica all'ATM. Rispetteremo gli impegni. E sempre dal capoluogo offese la nazione 1000 euro di multa. La Cassazione condanna un pensionato che aveva detto Italia, paese di... Bene, con il tempo si chiude. La sezione è dedicata alle testate locali. Ci spostiamo ora a quelle nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Il Fondo Monetario, l'Imu Resti. Draghi lascerà a lungo i tassi ai minimi. Volano le borse. Polemiche sull'FMI. No, del PDL. Letta per IVA imposta sulla casa. Coperture difficili. E poi si lancia dal Duomo con il paracadute. Gioia impagabile, dice. Intanto i medici di Mandela chiedono sia staccata la spina. È stato vegetativo. Mazzuma nega. Dal Corriere della Sera andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica. Letta. Difficile tagliare. Imu e IVA. FMI lasciate l'imposta sulla casa PD Renzi contro D'Alema. Non decide lui. Il premier al vertice di maggioranza perplesso sulle coperture. Il PDL attacca il Fondo Monetario. Abolizione delle province. Sia al DDL costituzionale. Ancora Egitto. La sfida dei fratelli musulmani. Arrestato il leader. Oggi la manifestazione. In piazza. Giura Mansur. Successore ad Itinerim. Dalla Repubblica. Ci spostiamo alla prima pagina della stampa di Torino. Il Fondo Monetario Internazionale. Tagliate le spese. Ma non abolite l'Imu. Sacco manni. Ne terremo conto l'ira del PDL. Non con noi. Letta. Difficile trovare le coperture. Anche per l'IVA. Draghi. Terremo a lungo i tassi. Al minimo. E poi il mondo di Pep. Che riparti dall'Italia. Da ieri Guardiola in ritiro sul Garda. col suo Bayern. Campione d'Europa. Dalla stampa. Andiamo a vedere ora la prima pagina del quotidiano. Il Tempo. Gli americani vogliono farci pagare l'Imu. Così titola Il Tempo. Crisi. L'FMI. La tassa sulla prima casa va mantenuta. Sacco mani. Ci penseremo. Letta. Difficile trovare i fondi. Debiti dello Stato. Con le imprese. Saldati entro ottobre. La fotonotizia e il megasegno girato allo Stato. Franceschini. Un DDL costituzionale. Ma è scontro. Il governo così aboliremo le province. Intanto i grillini appunto restituiscono gli stipendi ai parlamentari. Da Il Tempo. Andiamo ora a vedere la prima pagina del messaggero. Ancora stesso titolo. Anche per il messaggero. Il Fondo Monetario Internazionale difende l'Imu. L'Ira del PDL. Lite sull'invito del Fondo Monetario. Sacco mani. Ne terremo conto il centro-destra. Così è rottura draghi e tassi ai minimi. Ancora a lungo borse. Boom. Spread. Giulletta. Pagheremo i debiti delle pubbliche amministrazioni. Ancora infrastrutture. Ecco intanto i progetti. Con i fondi dell'Unione Europea. Previsto un balzo del PIL di mezzo punto. Tra gli investimenti i grandi nodi ferroviari. Andiamo ora a vedere le notizie riportate sulla prima pagina del Quotidiano Libero. I nostri soldi ai partiti. Si tengono il malloppo. L'abolizione del finanziamento pubblico annunciata in pompa magna da letta. È già su un minario morto. Così il Parlamento sta smantellando. La legge è anticassa. La doppia poltrona dell'assenteista Epifani ci costa 25 mila euro al minuto. E poi la vignetta. La Boldrini ama gli immigrati. Non gli operai. La Presidente snobba. La fabbrica Fiat. Da Libero andiamo ora a vedere le notizie di economia. Su il sole 24 ore. Draghi rassicura i mercati sui tassi. Piazza Affari sale del 3,44%. Lo spread torna a quota 275. Meno squinzi direzione giusta. La BCE conferma la politica espansiva. In attesa della ripresa tassi bassi ancora a lungo. Il nuovo governatore della Boe si allinea. Niente stretta. Ancora a tagliare il cuneo. Non Limus Accomani ne terremo conto. Il PDL insorge sulla prima casa. L'FMI dice però bisogna ridurre le tasse sul lavoro. Intesa letta. A maggioranza accelerare i pagamenti alle pubbliche. Amministrazioni dalle notizie di economia. Andiamo ora a quelle di sport. Iniziamo con la Gazzetta. Addio Cavani. L'oro di Napoli. 64 milioni più costosi di lui. solo Cristiano Ronaldo, Zidane, Ibra e Kakà. De Laurenti si incassa a quello che voleva e ora reinveste sul mercato. Leonardo intanto porta l'uruguaiano al Paris Saint-Germain. E cerca anche Hernanes e De Rossi. Il colpo a Roma. L'incontro decisivo. E adesso che cosa farà Ibra Imovic? Si chiede la Gazzetta. Ancora Inter. Belfodil è fatta. Va in pressing su Naegolan. Milan assalto all'Iaic. Balo vuole rinforzi per l'Europa. Dalla Gazzetta dello Sport. Andiamo ora a vedere il Corriere. Ancora Cavani al Paris Saint-Germain. Trattativa nella notte a Roma. Il Napoli vuole tutti. 63 milioni. L'incontro con De Laurentiis che non ha intenzione di ridurre la clausola stabilita. Il Matador ha già raggiunto l'accordo con lo Sheik. E intanto ora i francesi si lanciano all'assalto di De Rossi. Cassano, Mazzarri, Voltafaccia e poi Balotelli al Milan. Vorrei Ibra. Bene, con le notizie dello sport la nostra rassegna stampa termina qui. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Molise TV alle 13 e 50. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Il meteo è offerto da... L'estate è alle porte e la voglia di vacanza inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013. Visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso. Previsioni del tempo per venerdì 5 luglio. Residuo a nuvolosità al mattino ma ben presto seguita da tempo più soleggiato. Qualche cumulo in montagna al pomeriggio. Venti deboli o moderati settentrionali, mari da poco mossi a mossi. Temperature a Campobasso minima 13, massima 25 gradi. Isernia minima 12, massima 26. Termoli minima 21, massima 27 gradi. Il meteo è stato offerto da... L'estate è alle porte e la voglia di vacanza inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013. Visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza. Grazie a tutti.